Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi andiamo a scoprire insieme come installare le mod per R-Factor 2 Mi sono arrivate un sacco di richieste, probabilmente molta gente, novizia, si affaccia a questo simulatore della studio 397 Allora vediamo come si fanno a installare Allora, fondamentalmente sono due i modi in cui si installano E io ve ne do anche un terzo modo di come si installano le mod Il primo, che è il più semplice in assoluto, è quello di passare da workshop di Steam Quindi è molto semplice, basta andare sulla pagina iniziale, andare sul vostro giochino R-Factor 2 Fate un solo clic e quindi andate qui, questo menu qua, su workshop, d'accordo? E sul workshop ritrovate praticamente tutte quelle che sono, diciamo, le mod disponibili E quindi basta andare a scegliere quella che volete D'accordo? Fate attenzione che ci sono skin pack, track, circuiti, quindi un po' tutto mescolato Però diciamo che io vorrei installare, che ne so, vediamo una così a caso Questo è il circuito di Florian, Florianopolis Dove ho tutte le informazioni, 192 MB, messo il 20 febbraio, eccetera Io basta che faccio sottoscrivi, d'accordo? Quindi faccio sottoscrivo E praticamente sta partendo il download, già qui vedete, alta priorità Del tracciato, quindi si fa in automatico Volessi disinstallarlo, devo ritrovare questo benedetto circuito Che adesso sicuramente non ritroverò E, vabbè, non importa E fa togliere la sottoscrizione E quello che succede è che poi sul gioco ritroveremo l'installazione automatica Prima di avviare Refactor 2 Vi faccio vedere, perché qui ho scaricato preventivamente dei file rfcmp Che per chi usa Refactor 2 sa che è il tipo di estensione dei file Appunto che contengono le mod Quindi che siano esse auto o tracciati E questo tipo di file che scaricate da siti esterni Quindi non dal workshop, perché lo fa in automatico Come abbiamo appena visto Questi file qui che scaricate Tipo da Race Department, International Adesso non mi ricordo come i chiama, eccetera Dove sono contenuti appunto le vostre mod Quindi tracciati o circuiti Basta andarle a copiare sotto Io l'ho preparato ovviamente Sotto la vostra cartella Steam, Steam Apps, Common, Refactor 2 e Package Quindi basta incollarlo qui Io l'avevo già fatto E quindi andare a questo punto nel gioco Ma prima di andare nel gioco C'è un altro modo in cui praticamente potreste ritrovarvi Con questa tipologia di installazione In cui praticamente avete direttamente già la cartella Sia dell'auto che del circuito Che sono già praticamente scompattate Come si fa? Allora in questo caso qua io ho una macchina Quindi mi ritornerò sulla cartella di Refactor 2 E andrò su Installed Quindi installato in pratica E andrò su Vehicle E su Vehicle basterà incollarlo direttamente qui Adesso io non lo sostituisco perché non vale la pena Se fosse stato invece un tracciato L'avrei messo sotto Location Quindi tre metodi Workshop File RCFMP sotto la cartella Refactor 2 Package Oppure se vi scaricano direttamente le cartelle scompattate Come abbiamo visto in questo modo qua Direttamente nelle cartelle Refactor 2 Installed Location per i tracciati Refactor 2 Installed Cars per le auto Manca un passaggio Bisogna innanzitutto avviare Refactor 2 Perché il file workshop che ho appena scaricato Adesso si metterà Si aggiornerà da solo D'accordo? Quindi lasciamolo partire Quindi come vedete Florianopolis v1.01 Si è installato da solo Il packaging Updating package sta facendo E questo è quello che abbiamo installato Adesso sta aggiornando anche altri file Però sta installando l'elemento Diciamo il tracciato Che ho sottoscritto Su workshop E lo fa in automatico D'accordo? Quindi adesso sta facendo tutte le sue cose E manca a questo punto L'installazione Del package Che abbiamo messo manualmente Sotto appunto la cartella package Che adesso vi faccio vedere come si fa E invece per quanto riguarda Quello già installato Non serve fare nulla Perché lo ritroverà in automatico Cioè quando si avvia Refactor 2 Poi lo riconosce Quindi Qui che cosa bisogna fare Andare su content e setting Andare su Managed content D'accordo? E a questo punto Aspettare Che si aggiorna Io Vediamo se Eccolo qua Cliccando su Installed Vi esce la X Che è il stock series Che sono le auto Che ho scaricato Quindi che non sono installate Né da workshop Né scompattate Come vi ho fatto vedere Basta che a questo punto Faccio install item E me le sta installando ragazzi Ecco qua Quindi non è così complicato Tre possibilità Da workshop Perché Quando Andate a sfogliare workshop Vi trovate qualcosa Basta fare Sottoscrizione E fa tutto lui Se siete su siti esterni Vi scaricate il file RCFMP O RCPF Vabbè è uguale E lo andate a mettere sotto RFactor2 Package Poi venite qui Sotto L'opzione Content And Sending Quindi Managing content E cercate Dopo che ha Refreshato Tutto quello che non è installato Quindi adesso è tutto installato Normalmente da me Era quello con la Croce rossa Ci cliccate E fate install E poi ve li ritrovate Ovviamente Qui Dovrei avere Vabbè Non lo guardo Perché Non mi interessa Tanto era giusto Per fare un esempio E l'altro era qui Di copiare Direttamente La cartella Scompattata Sotto RFactor2 Installed Cards Per le auto O RFactor2 Installed Location Per i tracciati Finito ragazzi Questo è uno dei tre modi In cui si possono installare Anche se quella Dei file Già scompattati Non si vede tanto Sono sempre file Compressi RCFMP Mi pare che l'ho detta giusta Questa volta Oppure direttamente Da workshop Quindi ragazzi Spero che questa Mini guida Mini tutorial Vi sia piaciuto Per l'installazione Nelle mod Su RFactor2 Non esitate A lasciare Un commento Qui sotto Se volete Aggiungere qualcosa Se avete dubbi O perplessità Non esitate A lasciare Un pollice in su Se vi è piaciuta Questa guida Iscrivetevi al canale Ragazzi Dai facciamolo vivere Questo canale YouTube Noi ci vediamo Prestissimo Come al solito Da Fabrice è tutto Un abbraccio Ciao Ciao